Stiamo finendo, stiamo finendo, è finita, è finita, sofferenza atroce, ma vittoria importantissima, importantissima per come è venuta. Ora c'è la pausa, bisogna ragionare su molte cose che abbiamo visto nel primo tempo, molte cose, ma per ora giriamo pagina, ci prendiamo questi tre punti fondamentali, fondamentali. E giriamo pagina, ci vediamo dopo la sosta, bravi ragazzi. Questa è la classifica al termine della fatica dell'Inter che sarà a quota 17 punti, ce la fa, diceva Filippo che bisogna sfangarle in qualche modo, beh l'Inter è sfangata con tre punti. La peggiore Inter della stagione sono esagerato per la prima ora di gioco, poi sono arrivati i quattro cambi, Sassuolo che deve oggettivamente recriminare perché ha sbagliato l'ire di Dio, con la possibilità eventualmente di chiuderla. Quattro cambi, Geco dopo una manciata di secondi all'ingresso, mette dentro l'1-1 e lì è tutta un'altra partita con l'Inter che poi trova il 2-1 e riesce ad amministrare la partita portando a casa un risultato di estrema, estrema, estrema importanza perché rilancia l'Inter nelle zone altissime della classifica e adesso insomma l'Inter può ragionare su tutto quello che è stata questa prima mini parte della stagione. Sì, diciamo che...